Musica Proseguono gli eventi organizzati in occasione della settimana europea della mobilità sabato mattina. Per il quarto anno consecutivo torna l'appuntamento con scatenati in bici. Circa 100 ciclisti partiranno da Largo Corrado Ricci per arrivare in piazza del Campidoglio dopo aver percorso via dei Fori Imperiali, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, via dei Cerchi, piazza Bocca della Verità, via Petroselli, Vico Iugaro e piazza della Consolazione. Saranno possibili deviazioni o limitazioni per 18 linee di bus. Domenica invece torna l'Appia Day, l'evento che da nove anni celebra la storia e la bellezza della regina Viarum. Sarà una giornata ricca di appuntamenti a piedi e in bicicletta come l'Archeo Grab. Per saperne di più Roma Mobilita.it